buongiorno amici buongiorno amiche nuovo video nuovo box questa volta abbiamo 4 giga di ram 64 gigabyte di memoria interna processore snapdragon gps integrato siamo qui android 12 siamo quindi al top e questo box eccolo qui ed eccolo qui il rispetto agli altri box che abbiamo visto ha una apertura per l'inserimento della scheda sim e il solito apertura per la scheda sd di espansione della memoria ma lui ha già 64 gigabyte di memoria interna che non è poco per niente quindi questo box voi lo collegherete ad internet o tramite una sim che inserirete qua o tramite un router una saponetta che avete voi autonomamente oppure gli date internet con il tethering del vostro cellulare come abbiamo detto ha caratteristiche top e si riflettono anche vedete sulla sulla fluidità di movimento andiamo un attimo a vedere il gps che sta fixando tranquillamente attraverso widget torniamo alla schermata principale preinstallato c'è spotify c'è netflix c'è youtube che possiamo anche provare già che ci siamo 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 connessi al tethering dello smartphone dell'amico riccardo che ci sta prestando questa toyota per la prova vedete è partito immediatamente lo stiamo sentendo stereo nella nostra auto torniamo alla schermata principale vedete c'è un po tutto riccardo mi faceva notare che secondo lui l'interfaccia è poco cinese quindi è più è più adatta a noi occidentali è più comprensibile rispetto ad altri box che abbiamo visto abbiamo visto insieme qui si setta la lingua italiana e altre e altre cosette che vi divertirete a a guardare siamo connessi al bluetooth della macchina siamo connessi al wifi dello smartphone di riccardo che attualmente quindi è connesso a questo a questo box quindi se abbiamo delle apk le possiamo installare da qui e avremo le nostre app eventualmente moddate c'è chrome c'è l'assistente vocale netflix io non ho l'account ma se lo avete e chi compra questi box quasi sempre ha un account netflix adesso non aggiorniamo funziona perfettamente torniamo alla schermata principale i discorsi sono un po sempre quelli che abbiamo fatto questi box sono belli perché potete vedere il passeggero potrà vedere youtube in movimento quando siete in pausa a pranzo vi potete vedere un film su netflix vi potete vedere youtube in libertà quindi non avrete tutti i vincoli che hanno android auto qui sul cruscotto ci mette questa schermata quando avete in riproduzione un brano o dal bluetooth del cellulare o per esempio lanciandolo dalla memoria della sd qua vedrete anche il contenuto del brano in riproduzione ma non la copertina accolleghiamoci un attimo a android auto perché con questi box non perdete android auto avete anche android auto naturalmente adesso noi abbiamo già provato la funzione del telefono perché le telefonate voi utilizzerete il numero che avete sul vostro smartphone la rubrica del vostro smartphone adesso non entro per motivi di privacy perché è visualizzata la rubrica dello smartphone attualmente connesso ma noi abbiamo già fatto delle chiamate si sentono stereo all'interno dell'auto questa icona serve solo se avete inserito una sim nel box in questo caso dalla sim potete fare le telefonate e chiaramente potete collegarvi all'internet se eventualmente lo ha la sim dicevo android auto lanciamolo con il tasto magico come lo chiamo io vedete il cellulare ha chiesto la conferma e vedrete che adesso ci collegheremo ad android auto aspettiamo un attimo vedete siamo in android auto abbiamo le nostre app installate sullo smartphone compatibili con android auto e penso che lo conoscete tutti android auto non c'è bisogno e chiaramente qui potete fare le le telefonate anche da da utilizzando android auto oltre che utilizzando il tasto che abbiamo visto prima torniamo a bomba al nostro box ho detto questo è un box premium a un costo elevato lo trovate su aliexpress vi metterò il link in descrizione chiederò al venditore se mi darà un coupon in modo tale da abbattere un po il prezzo però sappiate che chi compra questo compra il top snapdragon 4 giga di ram gps integrato slot per la sim telefonica e quindi ecco vedete un po voi cosa cosa scegliere come ho sempre detto l'alternativa a questi box sono quelli android to android quindi card sci-fi a wireless carlink kit a 2a i quali però non fanno altro che rendere wireless un android auto che altrimenti per voi sarebbe cablato direi che per oggi è tutto saluto pasqui che ci ospita nel suo canale saluto riccardo che ci ha prestato questa bellissima toyota iscrivetevi anche al canale youtube rebotech che sono nostri nostri amici a presto ciao 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 ciao